Dietro ai 63 milioni di euro relativi ai 120 provvedimenti della ricostruzione privata dell'Aquila comunicati nei giorni scorsi dall'Ufficio Speciale e dal Comune in un comunicato a stampa a congiunto si nasconde più di un'ombra. Sono soltanto 32 milioni del cosiddetto elenco A, cioè quello completo di titolo abilitativo edilizio e documentazione complementare, dei quali sono destinati a diventare i cantieri soltanto progetti per 10 milioni di euro. Mentre i restanti 22 milioni attendono ancora il titolo edilizio, altra documentazione complementare oppure il parere di antisismicità del genio civile. Dietro al 39esimo elenco dei contributi della ricostruzione pubblicato dal Comune dell'Aquila si nasconde dunque in realtà un forte rallentamento della ricostruzione. Meno cantieri, ricostruzione che trova ancora troppi intoppi spingendo la fine dei lavori dal 2020 al 2024 come è precisato effettivamente nei giorni scorsi il titolare dell'ufficio speciale dell'Aquila Salvo Provenzano. Benvenga il discorso delle 120 pratiche esaminate dall'USDRA perché vuol dire che finalmente l'ufficio USDRA è entrato al regime quindi sta lavorando a pieno ritmo e questo è senz'altro un dato positivo da accogliere. Sul discorso di quanto effettivamente poi questi possano trasformarsi in cantieri nell'immediato è legato al problema di carattere burocratico che ostacola in qualche modo questo processo di ricostruzione. Questo è dovuto al fatto che questi contributi in qualche modo esaminati dall'USDRA emessi trovano per portare l'ITER a conclusione hanno necessità di definire l'aspetto urbanistico l'aspetto dei vincoli sismici ambientali eccetera. Questa cosa qui è legata appunto ai ritardi, sono legati a problemi sicuramente di carattere burocratico semmai a carenza di personale ma comunque per risolverli bisogna sicuramente affrontare la situazione così non può continuare ad andare avanti. Che cosa si potrebbe fare concretamente secondo i professionisti? Sicuramente snellire l'aspetto dell'ITER legato all'aspetto urbanistico e in qualche modo evitare che si creino degli imbuti con l'inostenibile Grazie a tutti